L'acqua in salita Materiali Acqua Un contenitore basso Sughero Preparazione Metti un pezzo di sughero al centro del contenitore Versa un po' d'acqua e osserva Il sughero galleggia e va ad aderire al bordo del contenitore A causa della tensione superficiale La superficie dell'acqua nel contenitore assume una forma concava Il tappo galleggia verso la parte marginale del contenitore Dove l'acqua è più alta che al centro Ora versa altra acqua e riempi il contenitore fino all'orlo Il sughero si sposta al centro La tensione superficiale rende convessa la forma del volume di acqua Il sughero, come prima, galleggia verso la parte più alta Il sughero, come prima, galleggia verso la parte più alta Il sughero, come prima, galleggia verso la parte più alta